con teodosio si compino oltre un passo decisivo verso l'integrazione del cristianesimo nelle strutture dell'impero a differenza di costantino che ricevette il battesimo solo in punto di morte teodosio era un imperatore cristiano anche per tradizioni familiari i problemi dei rapporti tra stato e chiesa erano dunque al centro dei suoi interessi per questo nel 380 dopo cristo promulgò l'editto di tessalonica in cui proclamava il cristianesimo religione di stato il cristianesimo diventò così l'unica religione lecita dell'impero romano come tale essa iniziò a godere dei privilegi da prima riservati alla religione romana nel 391 con un altro editto teodosio proibì i riti religiosi pagani anche se compiuti in forma privata e i sacrifici di animali le resistenze pagane erano tuttavia ancora forti e ciò indusse il governo imperiale a perseguitare coloro che si rifiutavano di aderire al cristianesimo poco prima di morire nel gennaio del 395 dopo cristo teodosio decise di lasciare l'impero ai suoi due figli l'occidente a onorio e l'oriente ad arcadio sperando con tale provvedimento di garantire la sicurezza e la stabilità in realtà tale divisione col tempo diventerà definitiva e le due parti dell'impero avranno destini molto diversi and that's all folks iscriviti al canale